E adesso dovrò dare la parola a Ezio Lanteri, il nostro istruttore di oggi. Vi presento brevemente il nostro relatore. E' nato nel, non lo dico, la sua vita professionale, ha vissuto la sua vita professionale come manager di azienda, soprattutto all'estero, ha vissuto in America 12 anni, ha vissuto in Francia 7 anni, in Germania, quindi è un uomo del mondo, è un uomo di mondo e conosce appunto tutte queste lingue che parla fluentemente. Ha fatto tutta la sua carriera fino a chiudere la sua carriera come direttore generale e amministratore delegato, quindi diciamo una carriera importante. Adesso è entrato nel club dei settantenni e quindi si riposa, l'ho detto. Il suo curriculum rotariano invece è impegnativo e importante perché è entrato nel Rotary nell'88 come socio del club di Agenau in Alsazia. E poi pian piano ha sviluppato il suo percorso rotariano fino a diventare presidente di Treviso Terraio nel 2010-2011. E poi governatore del distretto 2060 nell'anno rotariano 2014-2015. Ma il valore di questa persona che adesso ci parlerà è il fatto che ha acquistato nel tempo un valore nel Rotary International molto molto importante. In effetti lui è stato training leader del Rotary International per la formazione dei governatori eletti all'Assemblea internazionale a San Diego. Poi ha sviluppato sempre questo ruolo come caposquadra per la formazione dei governatori eletti e dei governatori nominati italiani. E ancora coordinatore e formatore degli istruttori distrettuali italiani. Inoltre è assistente del coordinatore nazionale Rotary per l'effettivo e istruttore distrettuale nel suo distretto. Ed è stato quattro volte rappresentante del presidente del Rotary International a congressi distrettuali in Normandia, in Francia, e poi in Lorena, in Svizzera. E quindi l'ultima volta a Como nel distretto del 2042. Quindi una persona di grande spessore sia umano sia professionale e sia rotariano. Adesso chiamo a parlare il nostro past governor Ezio Lanteri. Bene, buongiorno a tutti. È un gran piacere per me essere presente qui oggi. Non è un incontro dell'ultimo momento perché con Sergio ci eravamo messi d'accordo ancora a gennaio all'Assemblea a San Diego. Poi il caso ha voluto che la settimana scorsa ci fosse l'Institute in Sicilia e quindi abbiamo approfittato per fare anche una settimana di vacanza nella vostra bella terra. Durante questa settimana siamo stati ospiti di un paio di club che ci tengo a ringraziare pubblicamente, il club di Matera e il club di Putignano, perché ci hanno fatti sentire non a casa ma anche di più, sono andati anche oltre quella che è la normale ospitalità e quindi veramente ci tengo a un grazie pubblico e caloroso. Il vostro governatore mi ha affidato un compito, diciamo un titolo non semplice, il Rotary, un'opportunità nella crisi dei valori e della società, dove primeggiano due parole, il Rotary visto come opportunità e quelli che sono i nostri valori, l'importanza dei nostri valori all'interno della società contemporanea. Io ho cercato in qualche modo di rispondere a queste due parole, direi. Partiamo con opportunità allora e io lo farei provando a porci due o tre domande. La prima è, cos'è il Rotary? Chi siamo? Questa è una domanda, direi, sono sicuro che persone diverse possono dare risposte diverse, ma in realtà è una domanda abbastanza oggettiva, perché la definizione del Rotary sicuramente, come diceva Polaris, è evoluta nel tempo, ma se voi andate sul sito del Rotary International, trovate una definizione molto chiara. Dice, chi siamo? Il Rotary è una letta globale di 1,2 milioni di uomini e donne intraprendenti, amici, conoscenti, professionisti e imprenditori che credono in un mondo dove tutti i popoli insieme promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane e in ognuno di noi. Quindi la risposta è molto oggettiva, cioè questa è la definizione del Rotary, come Rotary International la vede in questo momento. Diversi invece il discorso se io vi faccio la domanda, ma cosa rappresenta il Rotary per ciascuno di voi? Perché questa è una domanda che è estremamente soggettiva e sicuramente se potessi darvi a tutti carta e penne e ve lo facessi scrivere, è molto probabile che otterrei anche un centinaio di risposte diverse, perché direi ciascuno di noi vive il Rotary a modo suo. Un milione e duecentomila soci intorno al mondo, pensate in quanti modi diversi possono vivere il Rotary. Io credo però che in linea di massima c'è una cosa che accomuna tutti questi milioni e duecentomila rotariani. Il Rotary alla fin fine è come tante altre cose nella vita di ciascuno di noi, dipende da quello che ne vogliamo fare. Il Rotary però spesso ci mette di fronte a delle scelte, il Rotary ci dà delle opportunità importanti direi, e quindi sta a ciascuno di noi, quando il Rotary in ciascuno dei nostri club ci offre queste opportunità, sta a noi decidere se lasciare che ci scorrano a fianco indifferenti o se vogliamo impegnarci su queste opportunità che il Rotary ci offre. Perché credo che il Rotary per ciascuno di noi rappresenti solo un potenziale. L'incredibile potenziale, io qui ve lo esemplifico con tutte le frasi degli ultimi 7-8 presidenti internazionali, quindi aiutare gli altri, cambiare le vite, illuminare il mondo, essere al servizio dell'umanità, essere di ispirazione e fino a quest'anno connettere il mondo. Sono tutti modi diversi, però è un potenziale che il Rotary ci offre. E quello che facciamo di queste opportunità potenziali, beh, questa è una scelta che ciascuno di noi è libero di interpretare come vuole, come ho detto prima. Altra domanda allora, ma per quelli che decidono di approfittare di queste opportunità, di saltarci sopra, come possiamo contribuire personalmente a questo? Beh, io credo che il modo migliore è quello di vivere ogni giorno i valori che il Rotary ci propone. Se noi viviamo veramente in maniera concreta questi valori, qualche oratore prima di me ha detto molto chiaramente, portiamo il distintivo, non vergogniamoci, facciamo valere l'argoglio rotariano attraverso i nostri valori, e se noi riusciamo ad esprimere in maniera chiara e concreta, sicuramente è importante. Io credo che noi di valori ne abbiamo molti più di cinque, però quelli fondamentali del Rotary sono questi cinque, amicizia, integrità, leadership, servizio e diversità. E io passerò attraverso di loro, non c'è un ordine preferenziale o meno, io ho scelto un ordine che mi veniva bene nella presentazione, ma non c'è uno che venga primo. A volte viene chiesta questa domanda, qual è il più importante e il meno importante, sono tutti allo stesso piano. Dopo dipende da noi quello che ci corrisponde meglio o quello che ci corrisponde meno bene. Beh, intanto nella precedente edizione del piano strategico c'era, al solito, A4 su due facciate, sulla parte posteriore di quella A4 c'era i nostri valori all'opera, ed è abbastanza bella questa definizione, possiamo leggerla assieme. Attraverso l'amicizia noi creiamo rapporti duraturi che provoavano maggiore comprensione internazionale, con integrità onoriamo i nostri premi e agiamo in base degli standard etici, la nostra diversità ci consente di mettere insieme diversi punti di vista e affrontare i problemi da diverse angolature e infine applicando le nostre competenze professionali, servizio e leadership, noi possiamo risolvere o quantomeno tentiamo di risolvere alcuni dei più importanti problemi del mondo. Attenzione, questi più importanti problemi del mondo a livello locale sono i più importanti problemi della comunità, non possiamo pensare di essere noi gli artefici di un mondo intero, anche se Poglio Plus è un esempio a livello mondiale che ci caratterizza fortemente. E allora partiamo un attimo dalla nostra visione, la visione diciamo che è ormai in essere da circa un anno e mezzo e che recita, crediamo in un mondo dove tutti i popoli insieme promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane e in ognuno di noi. Qui ci sono vari concetti, innanzitutto c'è il concetto di insieme, io credo che individualmente non andiamo da nessuna parte, io credo che sia il club, che sia il distretto, che sia l'Italia, che sia il Rotary International, la nostra forza insieme è dieci volte più importante che se tentiamo di fare qualche cosa da soli. Seconda parte è cosa dobbiamo fare, quindi promuovere cambiamenti positivi e duraturi e dove lo dobbiamo fare? Nelle comunità, sia la nostra comunità, sia tutte le comunità attorno al mondo e se facciamo del bene alle comunità, alla lunga credo che anche noi stessi possiamo diventare persone migliori. Quindi spesso direi, il nostro segretario generale, diciamo, spalla a pesto dicendo presenta il Rotary come un prodotto che noi in qualche modo dobbiamo promuovere e vendere per attirare nuovi soci, direi. E io quello che vedo è che spesso questa definizione, questa visione, troppi dei nostri soci la prendono come una bella definizione di marketing. Cioè, guarda che bello, guarda come è definito bene il Rotary, però l'indomani magari se la scordano. Io in realtà sono convinto che questa visione, questa descrizione del Rotary descrive il Rotary che i nuovi leader devono aiutare a costruire. Io credo che in questa sala, ma anche fuori di questa sala, nella maggior parte dei vostri club, la maggior parte dei nostri soci nella loro vita professionale hanno dimostrato di essere dei leader. Purtroppo non è sempre nel Rotary è così, però questa è la missione che tutti i nostri leader devono avere. E questo come l'ha tradotto il Rotary? Da quando c'è questo piano strategico, il Rotary ha anche cercato pian piano di allineare statuti, regolamenti e procedure al piano strategico. E ci sono due passaggi importanti. Il primo è l'articolo 10 dello statuto dei club, dove si parla di compagine dei soci e viene data questa definizione. Il club si compone di persone adulte che dimostrano buon carattere, integrità e leadership, disponibili al servizio nella propria comunità o nel mondo e che godono di buona reputazione nell'ambito degli affari, delle professioni e nella comunità. E le parti che qui vedete in bianco sono abbastanza tradizionali, cioè esistevano anche nelle precedenti definizioni di socio. Ma questa chiarezza così esplicita di disponibilità al servizio nella propria comunità o nel mondo la ritroviamo solo dal 2016 in poi. Nel primo secolo di vita voi non troverete mai questa definizione così chiara di disponibilità al servizio nella propria comunità o nel mondo. Non vado su cosa succederebbe se l'applicassimo letteralmente, ma credo che ciascuno ci può riflettere sopra. Un altro passaggio sempre legato a questo è nelle cinque vie di azione, in particolare nello statuto dove parla della seconda via di azione. L'azione professionale, seconda via, ho saltato tutta la descrizione della via, l'articolo terminava in precedenza con i soci sono chiamati a operare sul piano personale e professionale in conformità con i principi del Rotary. Ma da due o tre anni a questa parte ci è stato aggiunto e mettere a disposizione le proprie competenze professionali per progetti a favore della comunità. Quindi vedete che quando combinate la definizione di socio e questa qui diciamo dell'azione professionale, è molto chiaro quello che il Rotary ci chiede, di mettere le nostre competenze al servizio della comunità, dedicare un po' del nostro tempo al servizio della comunità per progetti importanti e insisto sul fatto che devono essere progetti per la comunità direi. E qui viene una delle nostre debolezze. Nei nostri service, nei nostri club, facciamo veramente servizio alla comunità nel senso di quello che abbiamo spiegato o facciamo beneficenza? Guardate, io in tutta onestà temo che forse la bilancia oggi è più sbilanciata sul lato della beneficenza che non sul lato del servizio. E questo ce lo possiamo spiegare in tanti modi che credo tutti conosciamo abbastanza bene. E questo diciamo che questo privilegio della beneficenza, lo scapito del servizio, da un punto di vista del valore non cambia nulla, è tanto valore la beneficenza quanto lo è il servizio. Ma il Rotary è fatto, la nostra missione è fare servizio. E questo direi, se noi ci mettiamo a fare della semplice beneficenza, ci mettiamo in competizione con, io credo, decine di migliaia di associazioni che sono più votate di noi a fare beneficenza e guardate che tanti giovani si chiedono ma perché devo venire a Rotary a pagare tutta quella quota sociale quando vado in una di queste associazioni posso fare altrettanta beneficenza e non mi costa nulla. Quindi io credo che una riflessione su questo aspetto la dobbiamo fare in maniera molto profonda. Poi guardate cosa scriveva Polaris, il Rotary non deve fare beneficenza ma deve rimuovere le cause che rendono necessaria la beneficenza. Quindi se c'è una popolazione che ha fame o gli insegniamo l'agricoltura o gli insegniamo a pescare o gli insegniamo ad andare a caccia in modo che possano poi loro autoalimentarsi da soli è giusto anche il banco alimentare ma è una forma di beneficenza. Poi per carità non è che noi la beneficenza la dobbiamo escludere totalmente ma non è possibile che sia la parte prevalente della nostra missione. Essere rotariano diceva Polaris anche che il Rotary offre l'opportunità di servire nei modi e negli ambiti in cui ognuno è più propenso e che il potere di un'azione combinata non conosce limiti. Quindi ciascuno di noi deve far qualcosa ed è anche servizio quando ci si impegna all'interno del proprio club a portare avanti determinate cose. Non è solo servizio verso gli altri il servizio lo si può svolgere in tanti modi se vogliamo sempre tenere alto il nome e il prestigio del Rotary. E allora io qui a questo punto vorrei farvi vedere un breve filmato è un'azione di service che abbiamo fatto al SIP del nostro distretto nello scorso mese di marzo e l'abbiamo fatta per due motivi uno come sorpresa cioè tutti i presidenti che sono lo conoscevamo in 5 o 6 quello che andavamo a fare non so se qualcuno di voi conosce un'associazione che si chiama Rise Against Hunger riso contro la fame è un'associazione alla cui creazione hanno contribuito anche i rotariani questa associazione sostanzialmente confeziona diciamo delle confezioni monodose di riso e altri cereali li raccoglie e li manda poi in paesi del terzo mondo con un doppio obiettivo sono orientati come pasto per i bambini a scuola con il doppio obiettivo uno di sfamarli perché chiaramente diciamo il problema esiste realmente e due consentire loro di andare a scuola diciamo proprio perché la scuola anche gli dà questa alimentazione e consentendogli quindi di creare cultura e poter migliorare il loro futuro quindi è un doppio scopo questo sera Rise Against Hunger diciamo si acquistano come distretto chi lo fa acquista le materie prime e dopo partecipare al confezionamento di questo come vedrete nel servizio è anche una forma di divertimento perché io credo che noi dobbiamo fare Rotary divertendoci se no direi diventa estremamente difficile allora vi faccio vedere il filmato vi sto chiedendo se siete rotti siamo rotti per far decollare il loro rotta di piccola e del mondo siamo rotti e allora non sono un nuovo mandato bisogna essere cambiato se tu lo sogni non puoi fare avete voglia di si resta non posso fare Grazie a tutti. 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 , grazie a tutti. , grazie a tutti. , grazie a tutti. , , grazie a tutti. , grazie a tutti. , grazie a tutti.